Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Grazie a te! Vabbè, sono ispirato! Ti manco, vanno l'aria! Sì, io fratello! Ah, aspetta, non ci vedi che c'è! Ciao, ciao! Ciao, un piacere il giornale! Ma secondo voi? Mi ho buttato un titolo al culo, dai! Secondo voi? Però quanti di voi l'hanno pensato? Cioè, io immagino lì che stavano là... Oddio! Adesso il maestro si fa a bannare! Oh, porca montana! Devo andare a cliccare su segnalazione! Oh, cazzo! Attenzione! Devo far bannare il maestro! Questa sera devo far bannare il maestro! Così... Attenzione! Devo far bannare il maestro! Questa sera! Così? Mi sto pisciando sotto! Basta! Eccolo, eccolo! Oh, eccolo, eccolo! Accosti il veicolo, accosti il veicolo! Allora! 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 La piazza! Allora! Travevo, cazzo, qua! Scusate, ma come si cambia la mano che mi sta in gangrea qua? Allora! 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 e sono sopra con una signorina eh tu mi hai detto che dovevi venire qua per parlare che dobbiamo fare? eh un attimo che stavo vedendo le stanze con la signorina arrivo subito se la sua ragazza le assicuro che questo non è il modo giusto no non è la mia non si preoccupi questo è il modo giusto ma che si è perso si è perso nel bagno oh dio che schifo che stasciamo non sto lasciando la cacca signorina come 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 si chiudi a modificare o lingua go positi ma 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 tu devi essere proprio scema ma tu sei proprio scema ma non è possibile una cosa che è non è possibile c'è deve essere proprio frustato c'è non se non nel senso cosa frusta che la capa non si borra la capa aspetta una moto un casino tre moto porco dio va giu ho lavato il telefono un po' i documenti che piacere noschki vetze noschki vetze noschki vetze ma che è la mazza gelata ma chi è? oh bucce no ma no che kill che kill ho fatto che kill ho fatto signori che kill ma io ho lanciato la spada sulla montagna un arcobaleno l'ho ucciso ma giuro un arcobaleno oh ma giuro ma è possibile ma no un elicotro e ambuce nemmeno sus 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 e ambuce mi sa che neanche un elicotro 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 il numero di telefono indirizzo di credito tutto è pubblico su cazzo pure ma non so neanche scrivere non so neanche scrivere segnala tutta la polizia posta ma non so neanche scrivere no vado un attimo faccio andare aspetto l'antica no vai giù ma stiamo a scherzare tutto non è camminare sotto il muro oh c'è uno sul tetto è tipo sotto sotto il parcheggio nevicoletto eh c'è ancora uno c'è ancora uno sul tetto sul tetto vieni con me no no faccio attenzione sul tetto vicino alle scale sta io ho c'è ancora gente che è frenata dietro collega si è buttato giù ma come sei buttato giù ok uiiii aiuto aiuto ma che tu sei pazzo ma che tu sei pazzo cazzavatto che sei tutto Ma meccani, ma il cazzo fai? Non devo te loggiare È bannabile affilare i cortelli live Aspetta, ma tu diche Preparazione Una mano qui, una mano qua Oh cazzo Porco Dio Oddio Sto cazzo Cazzo, dai Ah, per se sorda Giorgio, Giorgio Meloni Eh, allora Posso capire un attimo che A bolletto alla luce mi è arrivato 1500 euro Mannaggia, stanche Ma come faccio Oh cazzo, sono mutato Porco Dio Ah, fraus Porco Dio Ah, mannaggia, Gesù Cristo Alexa, accendi pioggia Bastardi Maestro, non pensa di andare a qualche evento nei prossimi mesi? Dio cane Dio canna Che ho combinato, porco Dio Che cazzo ho combinato Dio canna Che cazzo ho combinato, Dio canna Grazie.